C'è tempo fino al 30 settembre per presentare il modello precompilato 730 online e presentare così la propria dichiarazione dei redditi. Coloro che nei mesi scorsi hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il clic nella propria area riservata. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti per esempio i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie per la casa, quelle sostenute per la scuola e l'università dei figli e molte altre. La dichiarazione accettata senza modifiche esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali, ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata. Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenzieentrate.gov.it con le credenziali SPID o carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Per inviare il 7.30 c'è tempo fino a venerdì 30 settembre come detto, mentre per il modello redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022. Novità di quest'anno è la possibilità di affidare a un familiare o un'altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione, compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia. Se la procura è affidata al coniuge o un parente o affine entro il quarto grado, il contribuente può inviare il modello anche online tramite i servizi telematici o via posta elettronica certificata. Se si tratta di un'altra persona di fiducia occorre conferire la procura in un ufficio. In tutti quei casi in cui a causa di patologie la persona rappresentata non può recarsi in agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante insieme a un'attestazione del medico di base del rappresentato. Le informazioni su questi dettagli sono disponibili online in un video realizzato dal canale ufficiale youtube dell'agenzia delle entrate e sempre sul sito internet dell'ente è disponibile la guida per l'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia. E inoltre online un sito interamente dedicato all'assistenza info 730 con tutte le informazioni utili e una specifica sezione dedicata alle domande frequenti in cui i cittadini possono trovare risposte ai loro dubbi.